Diamo il benvenuto a Lorenzo Fontana, Presidente della Camera, lo intervista Maurizio Crippa, Vice Direttore del Foglio. Grazie. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto e grazie, è un onore per il Foglio avere Lorenzo Fontana, la terza carica dello Stato, una persona sopra di lei c'è poche cose. Benvenuto, io parto proprio da questo, lei è il Presidente della Camera, il suo diretto superiore diciamo, il Presidente Mattarella, che è un uomo, come dire, il timoniere dell'equilibrio di questa Italia piuttosto sgangherata, litigiosa sulla politica, eccetera. Ha detto due cose che le voglio segnalare recentemente, a Marzabotto, luogo molto simbolico, con Steinmeiner, ha detto che bisogna combattere e tenere duro contro i nemici dei valori e dell'Europa, non c'era posto migliore per dirlo. E poi il 7 ottobre ha ricordato che bisogna, non si può mollare su Hamas, sul giudizio che si dà sull'Occidente e Israele come democrazia liberale sotto attacco da queste cose. Mi sembra che sono due temi, come dire, è il perimetro di quello che siamo noi. Lei oggi è rappresentante della terza carica della nazione su come si sente a gestire questa appartenenza europea, che poi ha tante sfaccettature, non tutti la pensano uguale, no? Certo. Beh, innanzitutto vi ringrazio, ringrazio il foglio per l'invito, ringrazio anche per il titolo, no? Perché l'ottimismo, festival dell'ottimismo, penso che sia importante cercare di essere ottimisti, che però non significa guardare al futuro in maniera facilona, significa sapere che il futuro ci riserva delle sfide difficili, ma che senza l'ottimismo tendenzialmente cose positive non se ne fanno, no? E vi dico la verità, anche essere Presidente della Camera ha dei lati sicuramente belli, ma è anche molto impegnativo, soprattutto nel momento in cui una persona cerca un po' di togliersi i panni della parte politica e tenta di rappresentare nel miglior modo possibile, poi magari sarà sempre poco positivo per qualcuno, ma nel miglior modo possibile questa funzione, che è una funzione che secondo me, soprattutto in questo momento storico, le cariche istituzionali devono avere in maniera preponderante, perché viviamo in un'epoca difficile, insomma, e penso che soprattutto l'Occidente, anche gli Stati Uniti, anche in Europa, spesso e volentieri ci dimentichiamo nel confronto con gli altri comunque quella che è la nostra civiltà, io entrando oggi qui, insomma, non posso far meno di ammirare la bellezza, e la bellezza viene data anche da secoli e secoli di tradizione, di storia, storie di tutti i tipi, storie belle, storie meno belle, però una grandissima ricchezza, che oggi vedevo anche qui a Firenze, porta tantissime persone, ecco questa bellezza... Quando i comuni erano comuni... Prego? Quando i comuni erano comuni, diciamo... Ma non solo i comuni, in generale, tutte le epoche storiche hanno avuto dei grandissimi momenti, però tutta questa ricchezza, ecco, ci deve anche far ricordare che c'è stato un percorso nell'Occidente e nell'Europa che ha portato a un sistema come quello attuale, quello democratico, che però va difeso giorno per giorno. Io spesso e volentieri dico ai ragazzi che vengono alla Camera dei Deputati, ecco, ricordatevi che qui chiaramente ci sono i deputati e sapete che spesso e volentieri magari dei deputati non abbiamo una bellissima immagine, no? È anche vero però che noi abbiamo questo diritto che però, se paragonato al resto del mondo, è anche un privilegio, quello di poter votare e non tutti in paesi è così e quindi il fatto di poter votare e di avere questo diritto è una cosa che va difesa giorno per giorno, va difesa la democrazia perché la democrazia spesso, non ce lo ricordiamo, non è scontata, ma in tantissimi paesi del mondo la democrazia non c'è e quindi quando pensiamo che il nostro sistema non funziona, che va male, che potrebbe essere migliore, è sicuramente vero e bisogna sempre cercare di renderlo migliore, è anche vero che ci sono tanti altri paesi dove questa libertà e questa democrazia non c'è. Di questo magari ci dimentichiamo, di questo magari non ce lo ricordiamo sulla nostra pelle perché per alcuni, io sono nato nel 1980 quindi la seconda guerra mondiale è un ricordo dei nonni, nonni che adesso magari non ci sono più come i miei. Esatto, e anche gli anni 70. E quindi chiaramente magari non avendolo vissuto sulla propria pelle la prima volta che si andava a votare o comunque la prima volta post-dittatura eccetera, quindi magari un po' si tende a perdere. Questi che sono valori però fondamentali che è che bisogna tenere. Proprio su questa cosa, lei appunto è seduto su questa sedia molto in alto nella democrazia italiana diciamo e noi abbiamo un'impressione, o la gente ha un'impressione di democrazia che non funzionano più, che sono mai litigiose. Lei reduce di recente poi nella sua città da un G7 dei parlamenti, ospitato giustamente dall'Italia eccetera. I parlamenti oggi sono visti soprattutto dall'opinione pubblica, poi un po' come dei ring dove c'è la sedia che suona ma non si conclude niente o delle cose in cui i vari nazionalismi italiani, poi i giri di elezioni in Austria, in Francia, piuttosto che in Germania, stanno dando degli scossoni al sistema. Sembra che i parlamenti stanno tornando a essere delle falange armate una contro l'altra. Lei che ha una sua visione anche di che cosa vuol dire la democrazia europea e l'Europa, come la vede? Cosa ha portato a casa da questo incontro ad esempio sui parlamenti? Beh diciamo che per quanto riguarda il livello parlamentare, soprattutto negli ultimi anni, io penso che ci sia un gran sviluppo per esempio della democrazia parlamentare, della democrazia e della diplomazia parlamentare, nel senso che più di un tempo, chiaramente facilitato anche per questa possibilità di interconnessione che abbiamo adesso, ci sono molti più diagole e molte più cooperazioni fra i vari parlamenti. E questo permette di vedere quali sono i sistemi parlamentari che magari hanno adottato delle politiche differenti e magari migliori su certi ambiti e vedere anche quelli che possono essere i problemi da risolvere. Devo dire la verità, è chiaro che la democrazia ha in parte il costo, tra virgolette, di metterci un po' di più, perché se lo paragoniamo con qualche dittatura è evidente che con qualche dittatura uno sceglie ed è finita lì. E' chiaro, però è un costo che secondo me non solo è necessario, ma è anche doveroso se vogliamo vivere nella libertà. E io penso che la maggior parte degli italiani vogliono vivere nella libertà, perché ne vedo pochi che vanno poi ad abitare in qualche paese dove questa libertà non ci sia. È chiaro che bisogna portare pazienza. Talvolta le discussioni, noi purtroppo vediamo e abbiamo sempre un'immagine delle discussioni, quelle dove magari c'è qualche scandescenza di troppo all'interno del Parlamento. Però vi posso assicurare che la realtà è molto diversa. Cioè all'interno del Parlamento ci sono tantissime brave persone, di tutti i gruppi politici, tantissime persone preparate, tantissime persone che si impegnano, poi magari ce ne sarà anche qualcuno di meno bravo, meno simpatico, meno adatto, diciamo, ma la realtà è che ci sono di tutti gli schieramenti politici tante brave persone che si impegnano. Quello fa poco rumore, quello si vede meno, quello magari non copre le prime basi dei giornali, ma vi assicuro che c'è e secondo me è questo quello che dobbiamo difendere, difendere il buono e il bello della democrazia e del Parlamento. Senta, ma lei è stato anche poi ministro degli affari europei, è stato europarlamentare, eccetera, non le sembra che il livello nei nostri parlamenti democratici di litigiosità, questi parlamenti poi più nazionalisti che stanno nascendo, metta a rischio un po' la coesione? Cioè bisogna darsi un, come dire, o va bene così? Cioè va bene così nel senso che l'opinione pubblica che poi vota i partiti nazionalisti o sovranisti dice facciamo saltare il tappo di un conformismo politico che non è funzionato. Ma allora io credo che il Parlamento serva proprio a questo, serva ad assorbire quelle che sono a volte le spinte anche importanti che ci sono nella società e a canalizzarle attraverso le istituzioni. In un certo senso, io ricordo sempre feci un esame di storia dei partiti politici e studiai l'anarchismo in Italia e si parlava soprattutto della funzione che ebbe Giolitti ad un certo punto chiaramente si reprimeva il fenomeno anarchico però anche si cercava di capire qual era quella spinta che veniva per tentare di istituzionalizzarla e magari allargare la base degli elettori, rendere il paese un po' più democratico, eccetera. e in questo libro si spiegava come questa funzione di Giolitti fu essenziale per pian piano far spegnere il fenomeno dell'anarchismo in Italia che era molto forte, insomma ci fu anche regicidio. Io penso che il Parlamento possa e debba fare da questa cassa di compensazione fra le spinte che ci sono nella società in un momento di grande trasformazione dove i mezzi di comunicazione sono molto cambiati e cambieranno molto con l'intelligenza artificiale dove anche chiaramente il modo di approcciarsi alla democrazia delle persone sarà molto diverso io penso che però il Parlamento dia istituzionalità a quelle forze che ci sono nella società e che rappresentano comunque una domanda o una richiesta di qualcosa tutti nei momenti particolari della storia chiaramente ci sono delle spinte da parte della popolazione l'importante è fare in modo che queste vengano istituzionalizzate e si incanalino eventualmente non in delle rotture ma delle riforme quindi la forza disruptiva delle democrazie quando sono in ferimento eccetera è una cosa positiva è una cosa che non va tecnologizzata non sempre però però il fatto che avere un Parlamento e le istituzioni forti permette di attutire queste spinte che altrimenti possono provocare delle rotture perché nel corso della storia sappiamo che ci sono state delle rotture io penso che avere istituzioni forti sia importante per attutire queste spinte che ci possono essere e che a volte sono anche naturali nel corso degli eventi della storia senta l'asposto di un quadrante geografico lei riduce anche da un forum in Spagna o deve andare ancora senta adesso se ci può raccontare di quale sarà l'argomento ma la Spagna è un nostro partner, è alleato e anche competitor nel Mediterraneo ad esempio sulla gestione dei migranti su cui si sta riaccendendo un grosso scontro su Dublino eccetera ne scriviamo anche noi oggi sul foglio su questo problema ovviamente non penso che l'incontro verta solo su questo però il tema che facciamo con i migranti come li gestiamo per la sua parte politica e il governo nel momento è un tema importante per l'istituzione che rappresenta l'Italia è un tema come ha detto sempre Mattarella è cruciale noi non possiamo barare su come affrontiamo il tema perché è il tema del futuro dell'Italia io sono convinto che sia importante avere un rapporto privilegiato con tutti i paesi del Mediterraneo perché spesso e volentieri noi dimentichiamo il fatto che il Mediterraneo è casa nostra poi capite bene magari da me che vengo da Verona che sono anche particolarmente distante rispetto al resto d'Italia dal mare è una cosa che si può comprendere ma se noi vediamo anche geograficamente come è posta l'Italia l'Italia è in mezzo al Mediterraneo ed è la nostra fortuna qualcuno potrebbe pensare che magari è anche una sfortuna invece no è una fortuna perché il Mediterraneo è una delle zone più importanti per gli equilibri geopolitici mondiali è chiaro che dipende può diventare una fortuna ancora di più in base al ruolo che l'Italia vuole avere all'interno del Mediterraneo ma non dobbiamo dimenticarci che a livello mondiale contano soprattutto quelle potenze che dominano sui mari e si domina sui mari laddove ci sono i cosiddetti colli di bottiglia e nel Mediterraneo ce ne sono diversi noi siamo in mezzo al Mediterraneo l'Italia è un paese che geograficamente ha questa fortuna allora se noi riduciamo tutta la questione del Mediterraneo alla questione dei migranti sarebbe una sciocchezza prima di tutto da parte nostra è una questione sicuramente importante è una questione che spesso ha delle ripercussioni sull'opinione pubblica ma per l'Italia è una questione fondamentale avere un ruolo importante nel Mediterraneo e avere un'alleanza strategica questa è a livello parlamentare con i paesi del Mediterraneo ci deve aiutare perché spesso e volentieri quando parliamo di Unione Europea se voi ci pensate pensiamo diciamo all'Europa continentale ma pensiamo poco al Mediterraneo e invece anche quello anche quella è Europa anche quella è Unione Europea qualcuno potrebbe dire il confine sì magari sì però è fondamentale che ci sia una politica dell'Unione Europea anche per quanto riguarda il Mediterraneo perché è una zona strategica per il futuro geopolitico dell'Europa noi purtroppo l'abbiamo sempre visto come un problema da anni probabilmente ancora dai tempi quando ci furono le invasioni però l'abbiamo sempre visto come un problema ma è un nostro errore questo noi possiamo dire che ci sono punti di vista diversi a seconda dei governi di strategie di visioni di questo di questo problema ma a livello di Stato italiano di Stato italiano che lei rappresenta di istituzione noi abbiamo una questione di Stato e di nazioni da non trascurare cioè non possiamo limitarci a litigare su Dublino sulle barriere ci dobbiamo affrontare in questo modo quindi a Madrid ne parlate assolutamente ma assolutamente anche quello di riuscire a fare un'accoglienza che sia fatta nel migliore dei modi per avere poi persone che possano integrarsi nel tessuto sociale europeo nel migliore dei modi è sicuramente una sfida ma ribadisco la questione dell'immigrazione nel contesto geopolitico attuale del Mediterraneo è un tassello di un mosaico se noi prendiamo questo tassello e lo portiamo al di fuori del contesto facciamo fatica poi a capire la direzione che dobbiamo prendere per riuscire ad avere un futuro che sia ancora competitivo con il resto del mondo quindi noi dobbiamo inserirla nel fatto che l'Italia anche perché sono cambiati gli equilibri geopolitici deve iniziare veramente a prendere coscienza di essere la protagonista o una delle protagoniste del Mediterraneo perché se non lo facciamo noi tenendo conto che molto probabilmente gli Stati Uniti hanno altri scenari sui quali soprattutto l'Indo-Pacifico sui quali deve molto impegnarsi se non lo facciamo noi è facile che lo faccia qualche altro paese e quindi il fatto che ci siano i paesi europei del Mediterraneo che si possano unire per tentare insomma di avere una politica comune su questo mare io penso che sia una scelta strategica importantissima per il futuro del nostro paese e l'immigrazione c'entra ma ripeto è un tassello all'interno di un mosaico molto più importante dobbiamo guardare più ampiamente faccio un'ultima domanda la faccio uscire un po' dallo schema politico lei se vuole rispondere lei come persona e come figura politica è anche molto delineato lei è un cattolico i cattivi dicono tradizionalistica non vuole dire nulla invece vuole dire intransigente un cattolico però giustamente lei non è in Parlamento in questo momento a condurre per fortuna delle battaglie tra i nostri intervistati oggi sul foglio c'è il presidente della CERCA di Aezuppi che non nasconde il fatto che questa maggioranza di governo ama punzecchiarla o colpirla su alcuni temi fantastici lei giustamente da presidente non interviene in questa cosa ma lei come la vive questa cosa a me dà l'impressione che in questo Parlamento ci sia un tasso di litigiosità anche su questi temi i temi bioetici eccetera elevati e non ci sia la capacità istituzionale di dire ragazzi questi sono temi che riguardano non me non i cattolici tradizionalisti non il cardinale Zuppi sono di tutti come si sente non balla un po' sulla sedia quando è lì da sempre soprattutto in Italia ma non solo in Italia perché guardavo in questi giorni i dibattiti negli Stati Uniti le tematiche etiche scaldano molto i cuori perché riguardano la sfera più personale e quindi da un certo punto di vista finché questi dibattiti scaldano i cuori bene perché vuol dire che ci sono persone che da una parte o dall'altra ma credono in qualcosa e quindi sono diciamo che se si potessero fare al netto dei mass media sarebbero anche dei dibattiti molto importanti belli da tanti punti di vista dal punto di vista filosofico culturale è chiaro che trovare una soluzione politica in Parlamento su determinate questioni è molto difficile ma non perché c'è una divisione anche per quello fra destra e sinistra fra governo fra maggioranza e opposizione ma perché certe tematiche dividono profondamente gli stessi partiti compagni di partito parlamentare parlamentare quindi immaginatevi quale difficoltà ci possa essere però io sono convinto che il Parlamento se investito in un certo quel modo dovrebbe anche affrontare determinate tematiche è difficile è impegnativo penso che poi magari sia difficile arrivare a qualcosa nell'arco di poco tempo perché comunque ci sarebbero discussioni molto lunghe però io sono convinto che il dibattito in aula sia sempre produttivo e talvolta si viene a conoscere anche dei pareri da parte di alcuni deputati che magari non ci si aspettava io guardate ho dei confronti giornalmente con tantissimi deputati e spesso con i deputati dell'opposizione e devo dire la verità che è sempre un arricchimento bisogna sapersi ascoltare a volte questo in Parlamento non capita ma lei non sembra che l'istituzione che guida autorevolmente sia un po' timida su queste cose cioè un dibattito serio cos'è si è paura ma io penso che talvolta chi dovrebbe convocarlo penso che talvolta il problema sia dovuto a una questione di fattori di tempo e sapete che il Parlamento è talvolta sovraccarico di decreti legge eccetera e quindi il tempo purtroppo è sempre tiranno e a volte anche sull'avere immaginatevi di dover prendere una scelta su un determinato tema etico come partito perché poi ci deve essere sempre un impulso politico e un partito secondo me ogni partito indipendentemente da maggioranza opposizione fa un po' fatica su determinati temi a prendere una linea politica chiara perché all'interno ha diverse anime e quindi diventa complicato qualche anno sul dibattito ma io credo che sicuramente con calma ma qualcosa si muove tempo scaduto la ringrazio il presidente grazie a voi buona giornata grazie di essere venuto arrivederci grazie al presidente della camera Lorenzo Fontana diamo il benvenuto